Buongiorno ai telespettatori di Telenostra e Prima TV e benvenuti al consueto appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa, chiacchiere e caffè. Anche questa mattina siamo presso Sienergia. In mia compagnia per questa giornata lo psichiatra Francesco Saverio Ruggero, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, la collega Tiziana Urcioli ed il dottore Domenico e il dottore Giampaolo Palumbo. Tornando subito seri, due gli argomenti che intendiamo affrontare questa mattina. L'argomento che sta facendo discutere, ma soprattutto preoccupare il mondo, che è il coronavirus. E poi c'è un altro allarme che riguarda molto più da vicino la nostra terra, e cioè l'Irpinia. L'allarme dei suicidi e dei tentati suicidi. Tanti, tantissimi, troppi gli episodi che in un solo mese si sono verificati in Irpinia. Stamattina non guardiamo i giornali perché dovrei prenderli tutti. Comunque le prime pagine sono tutte dedicate appunto al coronavirus. Il coronavirus sbarca in Italia, virus, primi due casi accertati in Italia. E vado subito dal dottore Palumbo. Dottore, fino a ieri mattina tutti dicevano situazione sotto controllo, evitiamo allarmismi. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità si era limitata, tra virgolette, a diffondere un decalogo, un decalogo che conosciamo un po' bene tutti, che solitamente viene diffuso in occasione di influenze molto diffuse. Da ieri sera invece sembra che l'asticella si sia un po' elevata. Ci sono due casi accertati in Italia e la stessa OMS ha parlato di emergenza globale. Come stiamo messi? Allora, come stiamo messi? Noi stiamo messi bene in Italia perché gli unici due casi riscontrati a Roma sono di due cinesi che vengono entri le due settimane dal contagio in Italia per vacanze. Sono stati benissimo. Nei controlli sono risultati positivi, sono stati ricoverati per precauzione. Ma è giusto così? Ma più che la precauzione non è per loro, è per non fare diffondere attorno a loro quello che potrebbe essere, essendo una malattia infettiva, questo virus influenzale trasmette questo tipo di influenza. Perché le influenze sono tutte influenze, in Cina dalla SARS dal 2002 ad oggi in Medio Oriente, nel ricchissimo Medio Oriente, se abbiamo avuto altre problematiche, addirittura c'è una malattia, un'influenza che si chiama MERS, malattia medio orientale, influenza medio orientale. Per dire, dove ci stanno grossi agglomerati di persone, è facile che anche un banale raffreddore si diffonda molto più facilmente, dove ovviamente ci sta una situazione anche logistica abitativa diversa. In Cina si sa che una città dove si è sviluppato il virus ha 11 milioni di abitanti, due più di New York e io non sapevo neanche che esistesse neanche il nome, neanche la regione dove stava. per dire come il numero degli abitanti, il numero delle persone fa questo, manco a farlo apposta, delle ultime quattro grosse influenzali, tre vengono di là, due sono state importantissime. Questo è ancora peggio perché simula l'influenza, tra virgolette, normale, l'influenza non è mai normale, d'altronde a noi medici ci vaccinano proprio per l'influenza normale, dico io, ci influenzano per quello e che questa però aiuta, quella vaccinazione aiuta moltissimo anche in questo caso, perché almeno uno sa di essere vaccinato, anche se c'è un effetto, una percentuale, che chi è vaccinato potrebbe comunque farsi un'infezione virale, però molto più banale, con molto meno intensità. Ovviamente tutte queste preoccupazioni riguardano i bambini piccoli, che ovviamente non hanno sviluppato ancora grandi difese, e riguardano le persone anziane che sono immunodepresse e hanno molte di queste, hanno molte più di una patologia. Come bisogna comportarsi in questi giorni? È inutile nasconderlo che la paura e la preoccupazione c'è. È vero, come si diceva fino a ieri mattina, evitiamo allarmismo e non è che al primo colpo di tosse è un po' più forte o al primo raffreddore ci rechiamo subito in ospedale e magari rischiamo di affollare i pronto soccorso che già stanno messi in croce quotidianamente. Che bisogna fare? Allora, il problema non è il primo colpo di tosse. Il primo colpo di tosse, se tu vieni dalla Cina negli ultimi due settimane, devi scappare a farti vedere, a farti sentire, eccetera. Non è vero che è solo la febbre. Allora vedo alla frontiera tutti questi teletermometri per misurare, per non toccare le persone, per non trasmettere attraverso il termometro, anche questo, tutte queste cose, quando poi il grosso di queste infezioni inizia a decorrere senza febbre. Per cui anche il fatto della febbre lascia il tempo che trova. Quindi se tu stai in Italia, non hai avuto contatti con persone che sono venute di là, tu non sei venuto di là, c'è un primo colpo di tosse, è un colpo di tosse. Se il colpo di tosse di uno studente che ha studiato lì, che viene di là, che viene nelle ultime due settimane, va controllato. Questo è per evitare l'allargamento delle preoccupazioni, scusatevamo prima a microfoni spenti con la dottoressa Tiziana. Per cui il problema è che l'attenzione è globale, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché è facilmente trasmissibile e ora si sa che da uomo ad uomo. Il primo caso si è trovato non in Cina, ma in America, ma è un cinese che è andato in America. Questi due in Italia sono due cinesi, ma in genere così è, perché la trasmissione del virus avviene in questi tempi. Figuriamoci che quella, la prima e anche la seconda grossa, nostre moderne infezioni, la seconda era stata trasmessa da quegli animaletti, quelle linci piccole, eccetera. Poi gli uomini, quella della Abu Dhabi, eccetera, è stata trasmessa dai dromedari, per dire come anche gli animali facciano da veicolo questi virus, questi tipi di virus. Non per niente questo virus è stato chiamato coronavirus, perché sono tutti virus che si vede al microscopio a forma di corona, eccetera, ma si chiama 2019, corona del 2019, perché c'è il 2012, 2006, 2002. Sono tutti coronavirus che mutano, che cambiano. Cambiano i virus che abbiamo noi appresso dentro di noi, figuriamoci che non cambiano questi in una grossa quantitativa di persone che respirano insieme, vivono insieme. Cambia, a proposito di altri cambiamenti negativi, prima di passare al dottore Francesco Saveri Ruggero, Tiziana, volevo chiedere proprio a te. Il dottore Palumbo dice sì, ci dobbiamo preoccupare solo nel caso in cui siamo stati a contatto con persone che arrivano da quelle zone, ma la preoccupazione mia nasce dal fatto che in Italia per il momento ci sono solo due casi accertati, io mi auguro come tutti che ci fermiamo qui, perché se mentre lì in una settimana, dieci giorni, sono stati capaci di costruire un nuovo ospedale, io non posso immaginare se di questi casi si dovesse rispondere in Italia, qua in Italia, cosa potrebbe succedere? Ecco Anna, intanto di nuovo buongiorno a tutti, ammiro il sano ottimismo del dottore Palumbo e quindi ne prendiamo esempio, ci sono due casi appunto accertati a Roma, ma c'è un altro in Veneto che bisogna vedere se si tratta della stessa... Stamattina pare che pare che... Che non sia fortunato. Ma poteva anche esserci questo caso, Tiziana, io ti do del tu per l'età, rispetto a me per carità, voglio dire il problema, il contatto è il problema, la trasmissione è il problema, se io non sto con nessuno che ha avuto contatti, difficilmente posso prenderlo, questo è il ragionamento, non è che dice perché non viene dalla Cina io posso stare insieme a te, ma non viene dalla Cina ma che è stato in ambiente con dei cinesi, ha visto i cinesi sono venuti là nell'ultimo, perché sono 14 giorni per l'incubazione e in questi 14 giorni può succedere che lui non ha nulla ma ti trasmette il virus, anche se non c'ha febbre, non c'ha tosse, non c'ha rinorrea, non ha niente, te la trasmette, l'incubazione ci stai e te la trasmette, questo per dire la preoccupazione è questa, è subdolo, sono virus subdoli, questa è la preoccupazione vera, ecco perché l'Unione Mondiale della Sanità dicevi, state attenti, questo è il pericolo, è globale, non è solo se vai... E poi le mascherine ce le mettiamo quando stiamo in mezzo alla strada, ma tu stai a casa con le persone e non sai da dove vengono, che fanno, eccetera, la mascherina la dovresti usare giorno e notte, tranne nell'ambito della tua famiglia che sei sicuro che non hanno avuto contatto. È l'esperienza che lo mette in una condizione di tranquillità, Gian Paolo. Sicuramente, Anna, deve essere anche così perché poi creare tanto panico non serve proprio a niente, però è giusto osservare quelle cautelle, lavarsi spesso le mani, ma sono cose che un po' facciamo già un po' tutti i giorni. Certo la paura c'è, soprattutto per chi vive un po' nelle grandi città e soprattutto penso che già a Roma si sia sviluppato un po' questo panico, però noi, come dice il dottore Palumbo, l'importante è che non ci sono contatti con queste persone che vengono appunto e che ben venga che Conte finalmente ha chiuso appunto i voli sia per la Cina che, insomma, che non si può andare né venire appunto dalla Cina in questo momento. E poi, insomma, aspettiamo che si parlava già di qualcuno che aveva già studiato un vaccino per combattere questo virus, speriamo bene. Il problema è del fatto della Cina, eccetera, ma il trasporto di questo virus va bene, si chiude e va bene, ma noi non sappiamo negli ultimi 14 giorni quanta gente è venuta e dove sta, con chi vive e in che ambito vive. Ma d'altronde voi se vedete dall'ospedale di Avellino, davanti a ogni reparto, davanti a ogni stanza di degenza, non parlo in malattie infettive, nell'isolamento, anche in pronto soccorso, dovunque ci si deve lavare le mani con disinfettante particolare, perché è una cosa fondamentale, attraverso le mani si trasmettono tante di quelle cose. Questa resta la raccomandazione numero uno. Dottore Ruggero, in Irpinia dall'inizio dell'anno, quindi parliamo di un mese, gennaio, il primo mese dell'anno si conclude oggi. In Irpinia abbiamo avuto ben sei episodi tra suicidi e tentati suicidi, tre e tre il caso di dire, che hanno visto coinvolti sia uomini che donne, uomini e donne di un'età che va dai 38 massimo ai 60 anni. Cosa succede alla nostra terra, cosa succede in questa provincia? Il problema è valutare l'andamento di questa problematica nell'ambito di statistiche che possano prendere in considerazione anche l'andamento nazionale. Oggi noi possiamo indicare come i primi mesi dell'anno quelli a maggior rischio di tentativi suicidari o anche di suicidio. Il malessere generale e comunque le patologie che in qualche modo sono un fenomeno da nascondere, da non considerare o comunque da non portare all'attenzione di specialisti possono essere maggiormente responsabili di questi episodi. La problematica principale è che spesso la persona che ha intenzione di commettere un suicidio o lo commette, se non manifesta completamente una certa volontà, un certo atteggiamento che può essere un campanello d'allarme per chi sta intorno, poi lo porta a compierlo senza che gli altri in qualche modo possano fare nulla. Quindi l'attenzione è più che altro delle persone che sono intorno a questi soggetti che magari vivono dei momenti particolarmente problematici che non necessariamente sono legati a patologie psichiatriche. C'è anche il malessere legato a questioni economiche oppure a situazioni improvvise come ad esempio delle malattie che devono essere curate lungamente come il cancro o anche altre patologie che richiedono un'attenzione particolare e quindi bisogna porre questa attenzione verso queste persone cercando di capire quali siano i sentimenti che provano rispetto alle situazioni problematiche che stanno vivendo. Dottore però noi sentiamo parlare sempre più spesso soprattutto in questi casi di disagi per così dire interni, almeno ufficialmente nessuno di questi sei casi, lei parlava ad esempio di persone che vengono prese dallo sconforto se scoprono di avere magari una malattia. In nessuno di questi casi, le ripeto, almeno ufficialmente è venuta fuori una cosa del genere. Si parla sempre di più di depressione, mal di vivere? Sì, la depressione può essere una delle patologie per cui si può avere un tentativo o un suicidio. Il problema è che però la depressione è conosciuta in quanto tale e va trattata se ci si accorge che se ne soffre, se non se ne accorge la persona, i familiari o le persone vicine dovrebbero rendersi conto che quella patologia va trattata. Invece lo stigma e anche la volontà di voler tenere nascoste determinate patologie provoca spesso una sottrazione alle cure, quindi si utilizzano delle metodologie alternative per cercare di trattare queste patologie con dei risultati che non sono ottimali e che quindi poi provocano l'exitus in questo modo. Ci scopriamo una società debole, Tiziana, da questo punto di vista, perché poi non dobbiamo dimenticare sì, ci sono stati sei casi in un mese ma noi siamo reduci anche da un altro caso che ha fatto parlare l'intera Irpinia per settimane intere e per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. In questa città c'è stato anche un ragazzino, un adolescente che ha tentato di farla finita e allora c'è davvero qualcosa che non va. Sì, Anna, noi eravamo lì quella sera quando quel ragazzino ha tentato con la bici appunto si è lanciato dal ponte della Ferreria anche lì ci possono essere tanti i motivi, come dice il dottore Ruggero, problemi legati potrebbe essere un problema legato al bullismo all'interno della scuola, potrebbe essere un problema economico, un problema di depressione, sono tante, ne parlavamo l'altra mattina con te, con i lavoratori della Nuovo Legno anche un problema appunto di disoccupazione, non poter portare un proprio stipendio a casa, non poter mettere un piatto sulla tavola insomma si creano tanti problemi, problemi relazionali con la propria moglie, con la propria compagna che spingono a depressione oppure addirittura, come diceva il dottore Ruggero, a chiudersi in se stessi a non portare fuori questo dolore, questa sensazione di malessere e che si cade poi in una depressione dalla quale è difficile venerne fuori. Quindi è giusto che chiunque abbia questi sintomi insomma si rivolge a un medico. Fatto sta che in un ragazzino la situazione diventa ancora più preoccupante perché un ragazzino così piccolo che prende la bici e scrive un messaggio, dice tu lo sai bene nella chat che cosa c'era scritto, va giù al punto della feria e si lancia, che per fortuna è finita bene però questo ci deve lasciare un attimino riflettere e soprattutto forse all'interno delle scuole parlare un po' di più con i professori, forse i professori dovrebbero per caità non punto l'indice contro nessuno ma cercare un po' di capire perché a volte questi bimbi sono silenziosi, perché a volte sono nei banchi tristi, non parlano quindi sono tante le problematiche. Dottore Palumbo, lei è un uomo di grande esperienza oltre ad essere un grande professionista, gli ambienti avellinesi, gli ambienti irpini possiamo dire che li conosce praticamente tutti. Cosa è cambiato nel corso degli anni in questa provincia? Non è cambiato la mancanza del lavoro, questo è stato fondamentale. Io mi ricordo quando ero ragazzino le scuole medie, piano tardi c'era un nucleo industriale, c'erano le industrie che funzionavano c'era gente che lavorava e quindi c'era una stabilità anche familiare, se vediamo solo questo aspetto poi abbiamo, lei e Tiziana hanno toccato l'aspetto scolastico, ma non è possibile tenere 30 alunni in una classe 40 alunni in una classe e il professore come se ne accorge? Secondo me è impossibile tenere dietro se noi non abbiamo più perché le scuole sono del secolo scorso o di due secoli fa, per le nuove regole devono essere adeguate dal punto di vista architettonico e strutturale e quindi ci sta questa problematica. Se una piccola scuola gli mettete a fare diversi turni dopo l'altro c'è chi va alle 8 del mattino e chi alle 2 e chi alle 6. Ci sono tutte queste problematiche all'atere che chi diceva lo specialista, il super specialista, la fragilità, la fragilità è una somma di tante problematiche, non è possibile che esiste solo perché mio padre e mia madre non vanno d'accordo, no, quello può essere uno dei tanti situazioni, il fatto di non andare a cinema, il fatto di non andare a... e il fatto di non accontentarsi, il fatto di vedere gli altri che hanno la bici e lui non ce l'ha, a parte questo ragazzo che aveva anche la bicicletta personale, però chi c'ha... ma vi siete accorti davanti alle scuole elementari i ragazzi quattro e quattro e quattro hanno il telefonino e molti hanno lo smartphone, come si dice, no, smartphone, ipod, ipad, ipad, per dire no, io non so neanche il nome, però questi hanno queste cose meravigliose e questo fatto significa chiudersi. Quando io mi vedo, invece c'entro la televisione, non so con la mia famiglia, sto col telefonino per vedermi la televisione, quando devo parlare con qualcuno ci parlo, non ci parlo, comunico attraverso dei messaggi e lui mi risponde con messaggi, io non parlo più con nessuno, io non so neanche come si apre la bocca, non so se quando saliva produco, perché non parlo più, quando non si parla più, non ci si incontra più, ma noi per noi il sabato sera, io parlo a me e liceale, dall'elementare sono passato al liceo, per me liceale andare il sabato sera da una parte col mangiadischi di plastica e gli dischi di vinile era la conquista massima per dire che eravamo grandi uomini, ci sentivamo straordinari, adesso è ridicolo, la gente dice ma come sono questi dischi qua? Oggi i dischi si li fanno da soli, ci sono diverse, questa modernità, bravo, questa modernità fa in modo che la gente è sempre meno fortificata nel costruire se stessa e costruire l'ambiente e vive in un ambiente, perché uno se non vive in un ambiente che è fortificato, niente, ma se io per ogni cosa chiamo l'amica per dire ha visto quello, ha visto quell'altro, ma non che parla, che gli mandi il messaggio e il messaggino risponde, ma questo è il problema, tra l'altro è un problema come dicono tutti causato pure dai cinesi, perché con il loro ingresso sul mercato i telefonini costano sempre di meno, sono sempre più diffusi e questo è d'altronde la Huawei che è a livello mondiale, era di Empoli e le ha preso da Empoli la fabbrica, per cui per dire queste cose e noi siamo sempre in balia di questi tipi di situazioni, ma non è solo l'Italia, non è solo l'Irpinia, è un poco diffusa nel mondo tra virgolette occidentale che era il vanto del mondo intero, avere una cultura, avere una democrazia di tipo occidentale, però queste cose, questa fragilità si perpetua anche in questo mondo nostro attuale di occidentali. Dottore, siamo di fronte al paradossale, cioè è la modernità che ci porta su una cattiva strada, è il caso di dire, almeno nel caso dei giovani e dei giovanissimi. Non c'è più sacrificio per ottenere le cose e quindi ovviamente quando c'è una mancanza si pensa a una soluzione che è estrema per poter sopperire a quella mancanza che non si riesce più ad avere, quindi non si è abituati a sacrificarsi per ottenere risultati e per andare avanti nella vita pur avendo delle delusioni. Noi, il dottore Palumbo parlava della sua generazione, noi parliamo un attimo della nostra, che tra virgolette può essere leggermente più moderna rispetto a quella del dottore Palumbo. Il dottore Palumbo diceva per noi ieri il massimo prendere il giradischio di plastica con il vinile e andare a casa dell'amico, a pile, rigorosamente a pile, andare a casa dell'amico o dell'amica per trascorrere il sabato. Con i genitori presenti in casa. Tutti a fare la guardia. Tutti a vedere ogni tanto entrano per vedere. Il massimo, almeno per quanto riguarda me e Tiziana, che ci conosciamo da una vita, pensi dottore Palumbo che noi la nostra gioventù l'abbiamo vissuta nel Campo Coni e sotto il Palazzo della Regione, il Palazzo della Regione sarebbe l'ex sede della Prefettura sempre di fronte a Campo Coni. Quei muretti erano lucidi perché noi insieme a tanti amici li consumavamo perché stavamo sempre seduti lì. Per noi, bravo dottore, noi nel Campo Coni ci siamo cresciuti e oggi il Campo Coni fatta eccezione di alcuni giorni della settimana, Tiziana, è un deserto. È un peccato perché veramente, come dice Anna, noi lì siamo cresciuti, guai a salire su un motorino, guai ad andare a una festa, una sola volta mi sono permessa, Anna se l'è fatto scappare e mia mamma mi ha prelevato da Tripalda, colpa sua, una volta. Quindi era una delle feste belle, organizzavamo in casa come dicevi tu, ognuno di noi portava un dolcino ed era tutto più bello, questo va senza dire. Oggi siamo troppo emancipati, siamo troppo avanti. Abbiamo, purtroppo hanno avuto tutto. Avere tutto abbiamo poi, eh non so, avere tutto a volte significa, come dice lo specialista, avere tutto a volte significa poi non avere la forza di costruirsi qualcosa da comprare, da avere effettivamente con le proprie forze, con i propri mezzi, con la propria volontà e decisione. Il fatto è, questo è uno delle, credo che sia uno delle cose, il fatto di avere un carattere forte, questo credo che sia uno, alla base di certe problematiche. Molto spesso dottore sentiamo pure dire, dice ma poi i genitori come hanno fatto? I genitori non se ne sono accorti, i genitori sono distratti, i genitori dormono. Lo dico da genitore, non è semplice raccogliere dei campanelli, non è semplice seguirli proprio in tutto, tranne se non li vogliamo microcippare e avere un alert sul telefonino di continuo. Allora forse riusciremmo a tenere meglio questa situazione sotto controllo. La situazione non è controllabile, per cui non si può fare una dietrologia su se quello avesse saputo, se quell'altro avesse fatto, se quell'altro così e quell'altro colà. Il problema è che è una situazione imprevedibile e chi vuole commettere questi atti non dà nessun campanello d'allarme. Quando fornisce un campanello d'allarme lo fa perché è una richiesta indiretta di aiuto e quindi in quel caso si può gestire qualcosa, ma non è detto che si riesca ad arrivare ad evitare questo fenomeno. Quindi non ritengo opportuno fornire, dare accuse a persone che poi magari si trovano coinvolte per una fatalità perché poi non lo può prevedere nessuno di noi, non abbiamo nessuno di noi una palla di vetro per poter prevedere il futuro e quindi capire quando sta accadendo una cosa del genere. Però sicuramente ci si può incontrare a metà strada perché il lavoro più grande sicuramente va fatto scuola-famiglia. Sì, il lavoro importante è scuola-famiglia, però il tutto deve essere verbalizzato, cioè se c'è una persona che ha una intenzione che può essere anche impulsiva, non necessariamente deve essere programmata, questa intenzione se non è evidente, verbalizzata, presente, allora cade nel vuoto la possibilità di aiuto. L'altra problematica invece è riuscire a capire i segnali del disagio e questi devono essere evidenziati soprattutto con alcuni comportamenti che si possono rilevare, che in qualche modo possono far pensare che ci possa essere qualche problema, ma certo non si fa pensare al suicidio per un ragazzino di 13 anni o per un giovane che magari ha un'affermazione nella vita molto importante, cioè ci sono degli aspetti che possono essere colti, però questo nella vita quotidiana andrebbe fatto con tutti, cioè capire il disagio dell'altro e cercare di modulare la propria risposta, il proprio atteggiamento per cercare di comprendere qual è la situazione che l'altro sta vivendo. Però siccome siamo nella società dello smartphone e dei messaggi, ovviamente non abbiamo la misura delle parole che diciamo, abbiamo solo la misura dei messaggi, della quantità, dei like e di tutte queste altre cose che sono effimere poi rispetto alle relazioni interpersonali. Ma anche perché Tizana io penso un'altra cosa, ecco come diceva il dottore Palumbo prima, il dottore Ruggero adesso, l'importante è parlarsi ma non parlarsi con il telefonino, perché se io e te ci mettiamo a parlare al telefonino e io ti espongo quello che è un mio malessere di quella giornata, senza voce, al di là del senza voce, ma forse se Tiziana mi guarda in faccia, mi guarda negli occhi, capisce se quello è uno sfogo che sto facendo perché la giornata mi è andata storta, oppure perché è un malessere che vivo da tempo, perché a volte, anzi quasi sempre, anche una smorfia dottore Palumbo riesce a farti comprendere tante cose Tiziana. Sicuramente Anna, guardarsi negli occhi, i gesti, le emotività è tutta un'altra storia, come dico io, certo il messaggio è freddo, a volte il messaggio può essere anche interpretato male, non capito e poi spesso siamo veramente, scusami il gioco di parole, troppo spesso le sono depressa, sono depressa, non bisogna dirlo secondo me, sono depressa, perché a volte si dice anche per scherzo, lo dico io pure, non è vero, è sbagliatissimo dirlo, perché a volte... Si deve curare, non è che lo dice come un intercalare, è questo che è sbagliato, però sicuramente come diceva il dottore Palumbo, dobbiamo messaggiare di meno, quindi guardarci, parlare, l'incontro, anche un caffè a volte è importante perché sai con un'amica comunque come diceva Anna, ti guardi sul viso e riesci a capire l'emotività di quel momento, noi invece stiamo sempre con questi messaggini, lo facciamo pure noi Anna, diciamoci la verità, sbagliatissima, Gian Paolo non ti messaggio più, ti chiamerò sempre. Sarò il tuo io, stacca il telemedia, no, è una minaccia, no, è la spina bisogna staccare, perché sempre sotto sotto sotto, ma d'altronde lui ha detto una cosa importante, che a maggior parte i suicidi veri, detto veri tra virgolette, sono quelli che riescono, il problema, il messaggio che viene dato sui falsi tentativi, noi come esperienza di pronto soccorso, chi si salva in genere è quello che vuole dare il messaggio, chi vuole dare il messaggio non piglia i 23 compresse di Dalmo, 30 mg di Marely Monroe, ne piglia 1, 2, 3, 5, 6, che non fanno dormire manca uno come a me, come a lui, che pensiamo un po' più della norma, per dire, allora uno se ne si piglia 5 compresse, è solo per attirare l'attenzione, eccetera, ma se ne piglia 50 vuole morire, e allora questa è la differenza, tra il messaggio che viene dato intorno, io dico alla famiglia, a chi ci sta intorno, è il messaggio che non viene dato a nessuno, perché chi assume una quantità enorme di sostanze importanti, di farmaci molto importanti, e lo scopo è quello di non voler stare più insieme a noi. Dottore Palumbo, tornando al coronavirus, per quanto tempo ancora lei pensa saremo in allerta? Allora ci sono stati, per esempio, addirittura la prima grossa epidemia, quella della SARS, famosa, sempre un coronavirus, sempre in Cina è iniziata, è durata a dimostrazione che purtroppo troppe, troppe, troppe le persone che vivono proprio in simbiosi, ma in simbiosi in senso fisico, avete mai visto un autobus metropolitano, eccetera, è così, sono super affollate perché c'è super, super quantità di persone dovunque, in ogni negozio, in mezzo alla strada, eccetera, fa specie a vedere quelle città cinesi, dove ho abituato a vederle per televisione, a meno io, vuote, fa una cosa, fa l'impressione, ma se fossero state, non dico vuote, ma fossero state riempite in una certo tipo di quantità, allora molte di queste diffusioni così stratosferiche e che la paura sarebbe molto, anzi per il numero di abitanti di quella, soprattutto di quella città principale, è poco che sono morti 170 persone fino adesso, è pochissimo rispetto a 12 milioni e mezzo di epidemia che si vedono tutti i giorni, si frequentano tutti i giorni, perché questo è un virus cattivo e allora fa morti perché colpisce purtroppo fasce deboli nel senso fisico, ma il problema è quello, c'è troppa gente, la facilità di trasmissione, poi le comunicazioni, noi andiamo una parte, poi vado in Cina, poi vado a Hong Kong, poi vado su, poi vado sotto, questa cosa, senza precauzioni alcuna, ma poi io voglio andare, fammi farci la mino per l'influenza. Io infatti questo volevo chiederle, visto che ci avviciniamo alla chiusura dello spazio a nostra disposizione, da medico che raccomandazione si sente di fare ai cittadini? Allora di stare tranquilli, nel senso che se veramente uno non ha nessun tipo di frequentazione di questo genere, se c'è un mio figlio che è cresciuto sempre con me, è piccolino, posso postarlo dal pediatra perché mi metto un po' con paura, si può anche capire questo, ma se il bambino tossisce e non è mai uscito di casa, sono 15 giorni che stai in casa e tu e tuo marito state vicino a sto bambino, da 15 giorni lo seguite e non avete contatti con nessuno che viene dalla Cina o che casomai ha avuto contatti con altri cinesi eccetera, la preoccupazione, è vero che oggi è difficile dire quello che ho detto io, nel senso stabilire con certezza che non ci sono contatti, però trasmettere uomo a uomo, ce ne vuole, cioè un cinese, ex cinese, viene dalla Cina, dai ultimi 14 giorni, lo trasmette all'italiano, l'italiano per trasmetterlo al bambino, insomma ci vuole un certo tipo di situazione, non è un virus, poi è aggressivo ma non tale da avere questo tipo di trasmissione. Diciamo anche un'altra cosa, quando il dottore Palumbo dice non stare a contatto col cinese, non si riferisce al cinese che sta qua magari da 10 anni, no perché sennò va a finire, che rischiamo di demonizzare, vediamo un cinese, cominciamo a correre, il cinese è quello che arriva. I due casi di Roma sono quelli là che venivano da 10 giorni fa dalla Cina, banca a fare poste da quella città, non avevano nulla, non avevano l'aeroporto, niente temperature, niente cose, però hanno il coso, l'hanno isolati per non farlo trasmettere, questo è. E chi è il cinese che viene in questi giorni dal suo paese? Due settimane. Nelle ultime due settimane, no perché sennò va a finire, involontariamente diffondiamo un messaggio che è non corretto. Dottore Ruggero, lei invece si sente più che di raccomandare qualcosa in particolare alle famiglie, ai genitori, di dare qualche suggerimento, un po' a tutti, ai genitori, alle scuole, in generale. Allora, un suggerimento che può essere dato è quello di fare attenzione ai segnali che qualche persona può mostrare in un momento particolare della vita che possono essere segnali di disagio e in questo caso poterli porre all'attenzione di uno specialista, perché a volte è come per il problema della patologia che viene dalla Cina, no? Cioè nel momento in cui tutti si preoccupano per questa cosa cominciano a portare tutte le persone dal pediatra in pronto soccorso e fanno i giri. Il problema è che però un allarmismo delle persone che sta intorno a questi soggetti che possono avere dei problemi, a volte può essere eccessivo rispetto a una situazione che invece può essere gestita più semplicemente, con una valutazione, con un trattamento, con una serie di approcci che in qualche modo consentono di comprendere appieno il disagio e quindi anche per cercare di minimizzare sia la possibilità che ci si possa suicidare, ma sia anche il fatto che si possa creare un allarmismo inutile rispetto alla questione. Bene, io ho un mal di gola, Andrea e ho mio figlio a casa con l'influenza. Dottor, sto tranquillo? Sto tranquilla? Non c'è. Io conosco le sue abitudini, le sue frequentazioni negli ultimi 14 giorni. Allora se sono frequentazioni normali, tranquilli. Casa e lavoro, dottor? E bisogna vedere sul lavoro chi ha intervistato negli ultimi 14 giorni. Se viene dalla Cina bisogna un attimo guardarlo attentamente. Andrea, tu non sei stato in Cina, vero? Controllo la Cina. Ha detto che controllerà, perché non si ricorda. Vabbè, scherzi a parte, abbiamo affrontato questa mattina questi due argomenti sicuramente importanti. A questo punto speriamo, Tiziana, che anche questo momento del virus passi presso. Sicuramente, Anna. Il dottore Palumbo ci ha tranquillizzato alla grande, quindi dobbiamo stare un po' tutti più tranquilli, perché è inutile creare poi tanto panico, se no non si vive più. Quindi rischiamo proprio di non viaggiare neanche più. Il messaggio è quello di vaccinarsi, 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 perché le vaccinazioni possono non fare effetto, ma ci danno una tranquillità tale che non ci sono problemi. Lui dice vanno in pediatrie, vanno in pronto soccorso, ma se sono vaccinati per l'influenza e non hanno avuto conto a che ci vanno a fare. Quindi si è ancora perfettamente in tempo per vaccinarsi, vero dottore? In tempo. In genere noi in ospedale ci vaccinano entro fino a ottobre, ma entro i primi dieci giorni di novembre per l'influenza. Quella normale, dico virgolette normale, visto che questa è così stata catastrofica, figuriamoci, non siamo arrivati ai livelli di SARS, di MERS e di altro, però pure questa è esordito con un boom di 170 morti nei primi dieci giorni. Bene, ringrazio il dottore Francesco Saverio Ruggero, ringrazio il dottore Gianpaolo Palumbo con la collega Tizia Norcioli e quanti ci avete seguito da casa. L'appuntamento con l'informazione di Telenostra e Prima TV torna alle ore 14. A più tardi.